Benvenuti, ben ritrovati, apriamo questo nostro Tg Sud di oggi con la notizia del giorno che ci porta ad affrontare questo caso, il caso della giornata, per acquisizioni e avvisi di garanzia per alcuni esponenti politici del movimento Via, a partire dal senatore Papania e proseguendo con il coordinatore provinciale dello stesso movimento Angelo Rocca, si indaga su presunti voti di scambio per l'elezione a Petrosino e anche per presunti favoritismi. Nell'ambito del mondo della formazione Sicilia, vediamo. Si indaga sull'ipotesi di presunto scambio di voto e in questo caso il focus è sulle elezioni amministrative a Petrosino che si sono concluse il mese scorso, ma anche da quello che emerge sul mondo della formazione in Sicilia. Ad essere coinvolti sarebbero funzionari che si sarebbero resi disponibili a eventualmente favorire assunzioni segnalate da politici. A finire, dentro questo calderone ci sono anche funzionari che lavorano nel mondo della formazione in altri comuni, tra i quali Mazzara del Vallo e Castelvetrano. Sono dieci, da quello che emerge in maniera centellinata, momento dopo momento, le persone indagate nell'inchiesta della Guardia di Finanza coordinata della Procura di Marsala. Si tratta di Il senatore Montemario di Valderice, Sara Accardi, figlia di Michele Accardi, Marsala, arrivata prima dei non eletti all'elezione di Petrosino e Calogerino Formicale di Montevago. Le ipotesi di reato su cui si sta indagando vanno dal voto di scambio alla gestione illecita dei centri di formazione, al traffico di influenze illecite. Al momento non si sa molto di più, gli indagati non sono stati ancora ascoltati in procura, per alcuni, come ad esempio il senatore Papania, pare che la perquisizione domiciliare non abbia prodotto sequestri di carte e documenti, ma è un'indagine ancora tutta da definire. E questa era la notizia del giorno, tutte le altre tra poco nel blocco della prima edizione. I titoli di oggi, Marausa, non erano ordigni bellici, il ritrovamento di corpi metallici nel mare di Misiriscemi riaccende le luci anche su un secondo ritrovamento di relitto, probabilmente risalente alla guerra punica. Abbiamo intervistato il sub che lo ha individuato. Buseto entra nel villaggio Sicilia, un altro partner istituzionale per la piattaforma web dedicata alla promozione turistica del territorio della Sicilia occidentale. Per il sindaco Maiorana, il bosco di Scorace fungerà da attrattiva ulteriore. Punta tipa, altro intervento di bonifica disposta alla pulizia straordinaria dell'area nel litorale dove insiste la calendula marittima a Trapani. L'intervento di bonifica è stato realizzato proprio dalla Trapani Servizi. Ed ancora, Villino Nasi stoppa musica e bali, la soprintendenza vieta attività di intrattenimento nell'area che precede la storica dimora dove visse l'ex ministro del Regno d'Italia, Nunzio Nasi. Per lo sport prosegue il pre-ritiro, continuano gli allenamenti a porte aperte del Trapani Calcio allo Stato Provinciale, questo in vista del ritiro ufficiale che si terrà dal prossimo 1 agosto a Pergusa. Infine, l'approfondimento lo dedichiamo a Salemi e Nato, il Festival del Cinema, ne parliamo appunto nell'approfondimento con il servizio di Iana Cardinale. Andiamo a Marausa. Non sono di natura esplosiva i tre oggetti metallici individuati lo scorso 2 luglio in un tratto di mare antistante, appunto la costa di Marausa. Le operazioni di bonifica sono state eseguite dai militari del Nucleo Servizi Difesa Antimezzi Insidiosi di Agusta, ma al di là di questi ormai non più ordigni bellici, i fari si riaccendono davvero sul ritrovamento di uno secondo relitto, sempre lì a Marausa, da parte di questo sommozzatore per passione, Francesco Brascia, che abbiamo intervistato. Le operazioni di verifica sono iniziate alle 9 di questa mattina e si sono concluse poco dopo le 10. L'area, che dallo scorso 4 luglio è interdetta alla balneazione e navigazione, tornerà fruibile nelle prossime ore. Ma al di là delle operazioni di oggi è sul ritrovamento di un secondo relitto, probabilmente risalenta all'epoca delle guerre puniche, che si stanno soffermando le verifiche della soprintendenza del mare. Marausa, quindi il territorio di Misidiscemi, si candida sempre più ad essere un museo sommerso. A ritrovare i due relitti è stato un sub per passione. Francesco Brascia. Con la mia mascherina, le pinne, le giornate di mare vado a passeggiare, a nuotare in questo specchio d'acqua. Mi sono accolto, infatti ho fatto questi due ritrovamenti, sia due anni fa che quest'anno ora, un secondo ritrovamento. Ovviamente deve essere ancora visto dalla soprintendenza del mare, a una distanza di 10 metri d'arriva dal mare. Sono contento che sul discorso di questi presunti ordigni bellici, che non c'è un pericolo, sono anche contento di aver trovato questo secondo relitto. E spero che comunque il territorio apprezzi questi ritrovamenti affinché possa dare valore culturale al territorio di Misidiscemi. Fondamentalmente la zona di Marausa è un museo sommesso, capiamo sempre più, no? È un museo, secondo me si aveva ragione, il compianto Sebastiano Tusa è un museo sommesso. Secondo me aveva mille per mille ragione. Secondo me sì ci saranno, sicuramente altri vari, diciamo, si potrebbe anche esplorare ancora di più, però bisogna anche avere attrezzatura e anche competenza pure. Questi sono stati ritrovamenti fortuiti, diciamo. Comunque sono contento, spero che le persone apprezzino quello che ho trovato. Ma oltre ai relitti hai trovato pure delle anfore e altri oggetti, no? Sì, praticamente nel primo relitto sono stati trovati delle anfore incise con delle scritture che sono state regolamente consegnate alla SOP del mare di Parelmo. Quindi il tuo suggerimento, qual è, a chi dovesse trovare in quelle zone qualcos'altro? Immediatamente sporgere denunzia alla capone di porto di Trapani, sicuramente sporgere denunzia e avvisare. Perché è comunque il nostro dovere. E rimaniamo in un certo senso in tema, parliamo proprio di ritrovamenti, di reperti archeologici e di appropriazione clandestina. Parliamo di scavi clandestini, di furti, di beni culturali e contraffazione di opere d'arte. Sono fenomeni monitorati dai militari del nucleo dei Carabinieri di Tuzela del Patrimonio Culturale di Palermo nel corso del 2021. I dati dell'attività eseguita dai militari dell'arma sono stati presentati nei giorni scorsi. Numeri sui quali rifletterà. La ricerca archeologica clandestina rappresenta la più grave forma di aggressione al patrimonio culturale siciliano. Nel 2021 l'attività del nucleo TPC ha portato al sequestro di 11.516 importanti reperti archeologici e 10 reperti paleontologici illecitamente trafugati. Per quanto concerne i furti di beni culturali sull'intero territorio siciliano, si registra un lieve decremento del numero dei reati, 20 nel 2021 a fronte dei 23 dell'anno precedente. Gli obiettivi più colpiti sono stati i luoghi privati e quelli di culto. Inoltre, nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno della falsificazione delle opere d'arte, nel corso dei controlli su siti web dedicati all'e-commerce, sono state sequestrate 14 opere contraffatte. Tra le operazioni più significative, il recupero a Favignana, in località Bue Marino, di importanti reperti archeologici, tre anfore fittili italiche del IV secolo a.C. e un'anfora fittile punica del III secolo a.C., verosimilmente appartenenti ad un relitto naufragato. Il recupero è avvenuto al termine di attività congiunta con la soprintendenza del mare, l'arma territoriale e il nucleo Carabinieri Subvacuei di Messina. Tra i beni restituiti, invece, facendo riferimento alla provincia di Trapani, un'importante bolla papale in pergamena, relativa a una richiesta di indulgenza concessa da Papa Benedetto XI alla chiesa del Carmine di Messina, oggi santuario della Madonna del Carmelo, restituita all'Ordine dei Carmelitani di Trapani. Nel corso del 2021, l'attività di prevenzione ha certificato l'esecuzione di 276 controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche delle aree archeologiche e o tutelate da vincoli paesaggistici. Le verifiche hanno altresì riguardato gli esercizi commerciali di settore, con numerosi controlli amministrativi presso mercatini, fiere ed antiquari, che rivestono un ruolo fondamentale per contrastare la ricettazione di beni rubati. Infatti, i dati acquisiti vengono successivamente incrociati con quelli presenti nella Banca Dati dei Beni Culturali, lecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la più grande banca dati di opere d'arte rubate al mondo. Altrettanto incisiva è stata l'azione di contrasto, svolta attraverso indagini di Polizia Giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, finalizzata al recupero dei beni culturali trafugati e all'individuazione di sodalizi criminali operanti nel settore. Nel 2021 sono state deferite in stato di libertà 73 persone per diversi reati, prevalentemente furto, ricettazione e contraffazione di opere d'arte e sono stati sequestrati beni culturali illecitamente sottratti, per oltre 1 milione e 200 mila euro. I beni recuperati sono stati riconsegnati a musei, chiese alla regione per garantirne la pubblica fruizione. Parliamo ancora di turismo. Buseto Parizzolo entra istituzionalmente come partner istituzionale nel sito web di pronuncia turistica che si chiama villagiosicilia.eu. Sono così tre i comuni partner di questo portale turistico che già vanta 100 mila visitatori certificati da Google. non solo mare ma anche natura, verde e buon cibo è quello che offre la nostra meravigliosa fetta di territorio trapanese. E quando si parla di natura non si può certo dimenticare lo splendido polmone verde di Bosco Scorace nel comune di Buseto Parizzolo, un ente pubblico lungimirante che punta a sviluppare le potenzialità turistiche del territorio e sceglie di farlo attraverso le strategie di marketing del portale turistico www.villagiosicilia.eu che sulla visibilità online che lo strumento garantisce. Ho sempre ritenuto che il turismo enogastronomico possa essere uno dei principali fattori di sviluppo economico, afferma il sindaco Roberto Majorana. Il territorio di Buseto ha molto da offrire al turista, innanzitutto le eccellenze delle nostre produzioni agricole e l'abilità dei nostri ristoratori nel prepararle. Ma anche la posizione baricentrica rispetto a Scopello, San Vito, la riserva dello Zingaro, Mozia, Erice e Segesta è da sfruttare. Ad esempio creando dei mini tour che invoglino a completare l'escursione culturale con una sosta per del buon cibo. Non dimentichiamo poi il grande attrattore costituito dal Bosco Scorace che stiamo valorizzando con due specifici progetti, la porta del bosco e la rinascita dei sentieri. Stiamo realizzando un centro polifunzionale per l'accoglienza dei visitatori. Ritengo inoltre fondamentale, ha concluso il sindaco Majorana, che la promozione territoriale dia risultati concreti in termini di ricaduta economica. Per questo l'amministrazione desidera il coinvolgimento degli operatori privati. Gli operatori turistici di Buseto Palizzolo sono pertanto invitati a richiedere lo spazio gratuito all'interno del portale entro il prossimo 10 agosto 2022. Buseto incrementa l'offerta turistica del territorio per tutta l'utenza, che non cerca solo mare, ma vuole conoscere anche l'entroterra con esperienze e sapori che sanno di vero e genuino, spiega Rino Candia, fondatore del portale www.villagiosicilia.eu. L'adesione di Buseto Palizzolo come terzo comune presente nel portale contribuisce a migliorare le economie di scala e l'impatto del portale stesso, frutto della stretta collaborazione tra enti pubblici ed operatori privati. Questa collaborazione, oltre a una gestione oculata e professionale dei budget assegnati, sta portando a risultati eclatanti. Siamo ancora a metà stagione e abbiamo già registrato oltre 100.000 visitatori, 300.000 pagine visualizzate, 9.600 richieste di informazioni preventive alle strutture ricettive. Ci fermiamo per questa parte di TG, abbiamo altre notizie tra poco da resontarvi. Adesso parliamo di puntativa, c'è stato quest'altro intervento di bonifica disposto dal comune ed eseguito dalla Trapani Servizi. Sempre a Trapani il villino Nasi è stato deciso dalla soprintendenza su sollecitazioni del libero consorzio comunale stop alla musica e ai balli. Poi lo sport con il Trapani Caccio che prosegue il ritiro allo stadio provinciale in attesa poi di andare al ritiro ufficiale, quello a Pergusa. Eseguite ulteriori operazioni di pulizia straordinaria da detriti e anche pulizia ordinaria sulla spiaggia di puntativa a Trapani. Questo in seguito alle autorizzazioni e richieste conseguite dall'amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Tranchida in via sostitutiva rispetto all'ente proprietario del gestore che è il demanio regionale. Vediamo. Sull'area, lo ricordiamo, è stato apposto dal presidente della regione un particolare vincolo per la presenza della calendula marittima e pertanto qualsivoglia intervento deve essere limitato, mitigato ed assolutamente puntuale. La riperimetrazione, anche documentale, delle aree sabbiose disposta dal sindaco Tranchida ha però finalmente consentito la pulitura ordinaria effettuata a mezzo della partecipata Trapani Servizi. L'appello è rivolto ai bagnanti ai quali viene chiesto di fruire del sito in maniera attenta e rispettosa. Il comune di Trapani, peraltro, rimane in altesa del conseguimento della via VAS per l'attuazione del parco urbano di Punta Tipa che, proprio in conseguenza di tale vincolo presidenziale, è stato rielaborato ed adeguato alle necessarie opere di tutela della protetta calendula. Non è semplice barcamenarsi nel garantire da un lato l'attesa fruizione pubblica balneare e dall'altro il rigoroso rispetto di leggi e prescrizioni vincolistiche sopravvenute, dichiara il sindaco Tranchida, anche se ora confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini per il rispetto ambientale dei luoghi che, per inciso, con mio grande stupore, mi ha portato nell'estate 2018 a scoprire in loco anche la nidificazione delle tartarughe marine. Ancora un intervento di soccorso per il personale sanitario dell'aeroporto Vincenzo Flore di Trapani-Birgi. Un bimbo a bordo di un volo Ryanair proveniente da Manchester si è sentito male durante le fasi di atterraggio. Verosimilmente a causa del forte dolore alle orecchie il bambino è iniziato prima a vomitare e poi a perdere i sensi. A prestare i primi soccorsi il personale di cabina, una volta atterrato a bordo del verivolo, invece sono arrivati i sanitari che erano presenti proprio allo scalo trapanese, oltre alla polizia aeroportuale. Per fortuna ha ricevuto le prime cure il bimbo ha ripreso i sensi ed è riuscito a scendere dall'aeromobile da solo, accompagnato dai familiari. Il papà sui social network, sulla sua pagina Facebook, ha voluto ringraziare tutti gli operatori che prestano servizio all'aeroporto Vincenzo Florio di Biggi e noi ci affianchiamo ai complimenti. Niente più discoteca all'aperto al Villino Nasi, ma nemmeno più musica in un certo senso lo ha stabilito la soprintendenza ai beni culturali di Trapani. Niente più discoteca al Villino Nasi, il divieto è stato imposto dalla soprintendenza ai beni culturali di Trapani, dopo le polemiche scaturite in seguito all'organizzazione di una serata danzante nell'antica struttura, nella zona dell'Azzaretto. Frattanto, sulla vicenda interviene il libero consorzio comunale. Ma innanzitutto detto, si legge in una nota, che il dottor Raimondo Cerami è stato informato solo in data 20 luglio 2022, quando è venuta a conoscenza di alcune immagini e di scene fatte veicolare su alcuni canali social come Facebook della serata organizzata dalla società locataria della Casa del Custode, da cui emergeva chiaramente l'utilizzo improprio di quel luogo e ha dato immediate indicazioni a servizio competente di diffidare la società da proseguire nell'attività di intrattenimento musicale perché, quanto accaduto, rappresentava una chiara violazione del contratto di concessione finalizzato esclusivamente all'organizzazione di attività di ristorazione. Successivamente, prosegue la nota, si è appreso che la ditta concessionaria, senza interpellare preventivamente il libero consorzio comunale, aveva richiesto apposita autorizzazione al SUAP del Comune di Trapani. In occasione della convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza su pubblici spettacoli per l'autorizzazione delle iniziative estive da svolgersi presso il locale Lo Scoglio, ex Casa del Custode, il libero consorzio comunale ha formulato la propria opposizione all'ente comunale, esponendo che l'attività sottoposta all'esame della Commissione risultava in netto contrasto con quanto previsto nel contratto di locazione tra la società affittuaria e il libero consorzio comunale di Trapani. Nonostante la formale comunicazione del libero consorzio comunale di Trapani, il SUAP del Comune di Trapani ha rilasciato ugualmente l'autorizzazione alla società per svolgere gli eventi classificate in serate danzanti con diffusione di musica registrata o dal vivo o in musica di intrattenimento dal vivo. A questo punto, puntualizza la nota del libero consorzio, il dottor Cerami ha deciso di interessare della vicenda alla competente soprintendenza dei beni culturali di Trapani per le valutazioni di competenza ai fini del rispetto della destinazione museale, storico-culturale e monumentale dei luoghi. E proprio in data di Erna ha avuto la notizia che il soprintendente per i beni culturali e ambientali ha emesso apposita ordinanza con la quale viene interdetta qualsiasi forma di intrattenimento musicale e viene disposto il ripristino originario dei luoghi che pone fine all'utilizzo improprio di quel luogo di interesse culturale. Parliamo di cronaca, saranno processati con il rito abbreviato tre dei quattro protagonisti della rissa che a Marsala costò la vita a Luigi Loria. Saranno processati con il rito abbreviato tre dei quattro protagonisti della rissa che la sera del 7 ottobre 2021 a Marsala inviò curatolo davanti ad una pizzeria costò la vita al 27enne Luigi Loria, ucciso a coltellate. L'udienza preliminare si è tenuta davanti al giudice Riccardo Alcamo, pubblico ministero Roberto Piscitello. Ad opporse la richiesta di abbreviato dei due romeni accusati dell'omicidio Ion Nadoleanu di 21 anni e Pratigno Costantintapu di 39 sono stati legali di parte civile che assistono ai familiari della vittima. A spiegare motivi dell'opposizione è stato l'avvocato Giacomo Lombardo, legale di Nunzio Loria, padre di Luigi. L'avvocato Lombardo ha chiesto la modifica del capo di imputazione in modo che ai due rumeni fosse precuso l'abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo sulla pena prevista dalla legge. In corte d'assise invece si va dai 30 anni all'ergastolo. Peraltro ha sottolineato Lombardo nell'interrogatore di garanzia Inadoleanu rispondendo alla domanda dell'allora difensore Vincenzo Forti che chiedeva la seconda coltellata e stata inferta intenzionalmente ha risposto sì anche se successivamente ha dichiarato che voleva dargli una coltellata ma non ucciderlo. Quel secondo offendente però raggiunse il cuore e quindi si rivelò mortale. Alla richiesta di modifica del capo di imputazione e quindi di processo in corte d'assise si sono associati gli altri legali di parte civile Vito Cimiotta, Paolo Pellegrino e Nicola Gaudino. Ma il giudice Alcamo ha spiegato che a suo giudizio ci sono i presupposti e le condizioni per concedere l'abbreviato e il PM non si opposta alla decisione del giudice. Di omicidio in concorso, risse e porte legale fuori dall'abitazione di coltello e dalle dimensioni non consentite dalla legge devono rispondere Naduleanu e il patrigno Tapu. Soltanto di risse invece devono rispondere i marsalesi Giuseppe Cattia Loria di 27 e 21 anni. Quest'ultimi, fratello e sorella dell'ucciso, sono al contempo anche parte offesa. Anche Giuseppe Loria, che è solo abbreviato, mentre la sorella sul consiglio del suo legale, Vito Cimiotta, ha scelto il processo ordinario. Prossima udienza davanti al GUP il 23 settembre. In sedicenne, appartenente al nucleo familiare romeno, il figlio di Costantin Tapu è già stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di Palermo. Parliamo di musica, hanno fatto registrare il tutto saurito i concerti di Giovanni Sollima e del trio Quiros, andati in scena lo scorso weekend ad Elice come sold out e anche lo spettacolo di Noah in cartellone dopodomani alla chiesa di San Giovanni. Vediamo. Imprevedibile, ispirato, sempre pronto a destrutturare per ricostruire la battuta successiva. In una parola, Sollima, Giovanni Sollima, un musicista che ha riscritto il concetto di armonia e dissonanza come anche quello di genere musicale. Così, nell'ambito della sua esibizione, il violoncellista palermitano passa dalla musica classica in irvana con grande naturalezza, con una leggerezza disarmante. Semplicemente musica di livello assoluto. Diverso per Incipit, ma ugualmente coinvolgente, America, lo spettacolo con cui il trio Quiros ha condotto il pubblico attraverso un viaggio nella musica americana della prima metà del Novecento. Così, in una calda notte d'estate, chi c'era si è fatto cullare dalle note di West Side Story di Bernstein come da I Got Rhythm di Gershwin. E venerdì tocca a Noah, che con il fido Gildor alle 21 alla chiesa di San Giovanni porterà in scena il suo infinito talento e la sua splendida voce. Non è la prima volta che Noah si esibisce ad Erice, dice l'assessore Cosentino, ma stavolta la raffinata interpreta iemenita arriva qui nelle vesti di operatrice di pace, un'operatrice della pace nella città della pace. Voglio ringraziare ancora una volta, conclude l'assessore alle fondazioni Erice Arte e Ettore Majorana e ancora la montagna del Signore al pari degli uffici comunali per aver reso possibile questa settimana di musica nobile in vetta. Un ringraziamento particolare poi va agli amici della musica di Palermo che ci sono stati vicini in questo progetto. L'appuntamento con Noah è per venerdì alle 21 alla chiesa di San Giovanni. Lo spettacolo è già sold out. Vi ricordo che questa sera alle 19.40 ci sarà la seconda edizione, tutte le notizie che avete ascoltato in questa edizione ma anche le altre che non vi abbiamo passato le potete leggere sul nostro sito ufficiale www.telesud.web.it. Adesso ci fermiamo e tra poco lo sport. Prosegue il pre-ritiro al stadio provinciale del Trapani Calcio. Anche oggi è previsto un programma, una seduta di allenamento a porte aperte. Continua il lavoro di preparazione del Trapani in vista del ritiro che prenderà il via ufficialmente l'1 agosto a Pergusa. Da lunedì allo stadio provinciale, agli ordini di Mister Torrisi e il suo staff, si sono ritrovati 17 nuovi calciatori ufficializzati nei giorni scorsi e qualcuno in prova non ancora sotto contratto. Tra le assenze, oltre a quella di Capitan Pagliarulo, anche quella di Vincenzo Vitale. Anche lui, nonostante il contratto in essere, fino al prossimo 30 giugno 2023 sembrerebbe non rientrare nei progetti tecnici sportivi della formazione Granata. L'attaccante esterno in questa stagione sportiva non è più un under, al contrario della scorsa, ed attualmente non sta svolgendo gli allenamenti sotto gli ordini di Mister Alfio Torrisi. Intanto, ieri, nel corso del secondo giorno di allenamento, la squadra è stata suddivisa in due gruppi. Uno ha svolto lavoro metabolico utile a gestire gli allenamenti durante il ritiro di Pergusa. L'altro, invece, ha proseguito la batteria dei test basati sulla forza, agilità e velocità. Oggi la seduta, che si terrà alle 17.30 con ingresso previsto lato tribuna, prevederà lo stesso allenamento ma gruppi invertiti. Sul fronte calciomercato, il direttore sportivo Chiavaro sta provando a chiudere per altri calciatori. Molto probabilmente nelle prossime ore arriveranno ulteriori ufficializzazioni. A Salemi nasce ufficialmente il Festival del Cinema. Ce racconta tutto la collega Iana Cardinale. Nella giornata di ieri, con Cine Kim 2022, si è registrata la nascita ufficiale del Festival del Cinema a Salemi, così come concordato con l'imprenditore coreano Yongman Kim, che nel 2009 donò la propria collezione di film in UHS e DVD. Kim, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Salemi, era presente per celebrare la nascita del Festival, che rientra nell'accordo con l'amministrazione, la cui intesa è stata suggellata nell'aprile scorso a New York e prevede un spazio dedicato a Salemi al centro crim della Grande Mela, con l'obiettivo di promuoverne e valorizzarne le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali. All'interno del Festival, organizzato in collaborazione con l'associazione Cuncuma, proiezioni e dibattiti, cinque pomeriggi che terranno impegnati gli appassionati del grande schermo, fino a sabato 30 luglio. Sindaco, oggi una giornata importante per Salemi, si concretizza di fatto questo gemellaggio avviato e Mr. Kim diventa cittadino onorario di Salemi. Siete stati voi negli Stati Uniti e adesso la trasferta avviene al contrario. Un momento importante per la cultura di questo comune, di questo territorio. Esatto, mi permetto di sottolineare di questo territorio perché la portata di questa collezione, la portata di quello che abbiamo in mente con Mr. Kim va ben al di là dei confini di Salemi. Se ne è parlato anche prima perché è chiaro che investire dal punto di vista culturale va veramente al di là dei confini che non esistono appunto nell'ambito culturale. Siamo spesso noi a porre dei confini. Quindi oggi è un punto di arrivo da un lato perché abbiamo chiuso una serie di questioni che si erano aperte nel 2009, complicate, un percorso veramente complicato. Abbiamo chiuso con lo step new yorkese ma adesso qui appunto un percorso che era iniziato nel 2009 ma siamo pronti per partire e dare il via ad un percorso più ambizioso che porterà sicuramente Salemi al centro del panorama culturale con il coinvolgimento di giovani, con il coinvolgimento del mondo del cinema ma soprattutto di quello emergente. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati e lavoreremo nei prossimi mesi proprio in questa direzione. Quindi oggi abbiamo avuto molta attenzione da parte della stampa anche dei media nazionali. Cercheremo comunque di incrementare adesso sulle attività perché poi saranno quelle che contano ma la cosa fondamentale è che ci sono dei contenuti importanti perché spesso la comunicazione viene fatta a prescindere dai contenuti. Allora noi abbiamo lavorato a costruire invece una proposta robusta e da questa poi sicuramente daremo il massimo della diffusione. E poi chiaramente l'orgoglio da primo cittadino di avere da oggi un nuovo appunto cittadino prestigioso e un amico come Kim. Cittadino onorario di Salemi da oggi. Mister Kim ritorna qui, loro sono stati i vostri ospiti a New York qualche mese fa e invece adesso prende la cittadinanza. Tutti gli effetti il suo patrimonio diventa anche patrimonio di Salemi. Sono molto contento che mi viene questa sera conferita la cittadinanza onoraria qui dal comune di Salemi, sono stato ovviamente ben accolto da tutta la cittadinanza e sono veramente felice di essere qui con voi questa sera. In futuro lei che programmi ha per questo grande patrimonio culturale che risiederà qui e ci sono dei progetti anche da portare avanti? La mia esperienza qui a Salemi è iniziata 14 anni fa, è ovviamente un percorso che abbiamo iniziato assieme, è un percorso che mi piace portare avanti perché io tengo a cuore la città di Salemi. Ovviamente vorrei aggiungere un pizzico di sapore orientale, cioè quella che è la mia esperienza qui nella città di Salemi. tracingano, questa è una domanda che ho interessante darà trarre. Grazie a tutti.